... Più che paura delle nostre abitazioni, abbiamo paura per le altre abitazioni, quelle che sono a Deltino che hanno dei bei palazzi. Sono sulla spiaggia e non vengono toccati perché hanno pagato ai signori sindaci, io non so a chi. C'è gente che paga liceo, c'è gente che ha pagato per la residenza ai comuni, c'è gente che ha pagato delle mattette pure non so a chi. Le vostre case dove sono dedicati? La mia casa è una casa prefabbicata, su ruote, io ce l'ho a San Teodoro. C'è gente che ha da dire altre cose. Più che altro non è chi ha pagato e chi non ha pagato perché non ce ne frega niente, ma come siamo noi 22, se la legge è uguale, deve essere applicata, che venga applicata per tutte. non quella che ha 200 metri dalla battiglia e quella che è davanti no, oppure questa sì e quella no. Le cose sono o tutte o nessune, o quanto meno che quando si decidano di andare avanti, facciano per tutti la stessa cosa. E lo dici pure che si faranno altri incontri e tutti sono pregati di partecipare? da? E' di particolare usato! Un altro incontri e conosciamo, è vero ovviamente, scriviamo semplicemente una giustizia perché su 2618 case abbrusite nella fascia di 650 metri solo 22 vengono abbattute e tutti gli altri? Perché gli altri no? E solo 22? Allora giustizia, tra l'altro io mi riferisco ancora al termine di giustizia la giustizia dice e lo leggiamo nei tribunali, la legge è uguale per tutti ce l'hanno insegnato i nostri antenati, prima i greci poi i latini e ora lo leggiamo nei palazzi di giustizia la legge è uguale per tutti, ma che significa che ha decine di ufficini sulle spalle si confisca per bene ma non si demoliscono e a noi che abbiamo solo l'errore di aver fatto una casa abusiva senza la concessione viene demolita e paghiamo anche i dati noi chiediamo giustizia, si devono abbattere tutte bene azzeriamo tutta la fascia dei 150 metri non solo 22 ma in questo caso non è solo Massaro è tutta l'intera Sicilia, significa quasi 400 metri a casa abusiva sulla fascia costiera questa realtà, le istituzioni, la politica non li può assolutamente dimenticare non può far finta di non vedere, di non sentire, perché è la verità non abbiamo nessun problema a mettere il nostro nome e cognome in fronte perché siamo persone oneste, quello che abbiamo fatto è legge quindi quello che vi consiglio è state attenti anche a quello che scrivete perché se no scrivete fesserie sul giornale, capisce? grazie grazie grazie